La mia giornata tipo inizia qua in Accademia verso le 9 di mattina, dove con i miei compagni iniziamo a lavorare ai progetti e proprio con le nostre mani a creare ciò che stiamo studiando o ciò che servirà nell'Accademia per i vari spettacoli che sono in programma. Un'esperienza che abbiamo fatto quest'anno è stata quella di lavorare con la scuola di ballo a uno spettacolo, il loro spettacolo istituzionale e in quel caso ad esempio arrivavamo qui alle 9, prendevamo in visione i costumi dello spettacolo, li mettevamo a misura oppure ci ricavamo in scuola di ballo per fargli provare, prove costumi, sistemazioni per poi finalmente andare in scena alla fine di questo lungo percorso. Io ho scelto questo corso perché volevo mettermi in gioco soprattutto nel mondo del teatro e nel mondo dello spettacolo che è un mondo che mi ha sempre molto affascinato e quindi non solo l'idea di creare qualcosa da poter mettere tutti i giorni ma l'idea di poter creare qualcosa che renda un momento magico su un palco scenico è proprio bello ed è quello per cui sono venuta qua. Grazie. 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 Grazie.